Rivela di essere innamorato della Liguria e di Genova, di cui è stato, come ultimo incarico, viceprefetto Vicario. Non nasconde la sua grande passione per Fabrizio Di Andrè e si dice pronto a rappresentare il governo sul territorio dell'estremo ponente, che definisce bellissimo. Tanto entusiasmo e un lungo curriculum tra Toscana e Liguria per il nuovo prefetto d'Imperia, Valerio Massimo Romeo. Da responsabile della commissione regionale richiedenti asilo, promette un'attenzione particolare alla questione migranti a 20 miglia. Il mio obiettivo prioritario è quello di dare un'attenzione particolare agli abitanti di 20 miglia. Per me questo è importante e prioritario, cioè quello di tutelare la sicurezza e anche la tranquillità degli abitanti di 20 miglia. Fondamentale sarà il monitoraggio costante del territorio, soprattutto nella lotta alla criminalità organizzata. Avere dei profili sulle persone o su alcune personalità, alcuni soggetti che aprono attività o che entrano a far parte di una comunità o entrano in contatto con soggetti che sono attenzionati alle forze dell'ordine. Lavorare per una costante sinergia con sindaci e istituzioni, dice il neoprefetto, dal mondo sindacale a quello dell'imprenditoria dovrà esserci un'azione collettiva.